La squadra mobile di Agrigento è impegnata nelle indagini a seguito della sparatoria in città al villaggio Mosè nei pressi della chiesa di Santa Rosa nel parcheggio esterno alla concessionaria d'automobili nuove e usate LZ Auto per Passione dell'agrigentino Lillo Zambuto. Un uomo di 38 anni di Palma di Montechiaro, Roberto Di Falco, si è recato alla concessionaria di Zambuto a bordo di un'automobile insieme ad un familiare. Di Falco, anche lui commerciante di automobili, avrebbe discusso animatamente con Zambuto nel parcheggio su questioni legate alla compravendita di auto. L'alterco è degenerato in rissa e ad un tratto un colpo di pistola ha ferito brevemente Di Falco all'addome. Il familiare lo ha condotto in ospedale a San Giovanni di Dio dove il palmese è morto poco dopo l'ingresso al pronto soccorso. Sul corpo di Roberto Di Falco sarà eseguita l'autopsia. In questura, al fine di ricostruire esattamente quanto accaduto, sono stati condotti il familiare di Di Falco, Zambuto, e i suoi due figli presenti in concessionaria. Gli investigatori, coordinati alla procura d'agrigento, ascoltano anche eventuali testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Al setaccio, eventuali video di telecamere di sorveglianza nella zona. A terra è stato trovato il bossolo dell'unico colpo esploso. Nessuna traccia invece della pistola.